anche quest'anno anche se in modalità virtuale che purtroppo è una modalità che ci accompagna da molti mesi vogliamo ricordare il sacrificio di queste vittime delle foibe anche dell'esodo dalle loro terre sono state vicende in parte a lungo dimenticate anche in modo erroneo infatti a mio parere non esistono morti di serie A né morti di serie B esiste però il buon senso di ricordare questa tragedia assieme ad altre per far sì che crimini di questo tipo non possano più più accadere per questo motivo voglio ringraziare l'associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia in particolare Claudio Fra Giacomo Lorenzo Salimbeni Anna Maria Crasti che stasera ci aiuteranno sicuramente a far luce su una pagina di storia purtroppo ancora troppo poco conosciuta quindi grazie all'associazione grazie a tutti coloro che sono collegati allora buonasera grazie di avermi invitato sono contento di poter partecipare appunto a questo momento organizzato dall'efficientissimo comitato provinciale di Milano dell'associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia e ringrazio l'amministrazione comunale che ha voluto comunque in qualche modo commemorare la ricorrenza del 10 febbraio giorno del ricordo pur con le restrizioni del momento il ragionamento che andremo a fare questa sera così in questa nostra chiacchierata vuole andare a spiegare anche un po' quella che è un po' tutta la questione del confine orientale italiano senza soffermarsi solamente sul discorso delle foibe e dell'esodo che sono il centro del 10 febbraio ma vogliamo far capire questa sera che l'italianità la presenza degli italiani nelle terre di Istria Carnaro e Dalmazia non arriva il giorno prima delle foibe e non sparisce con l'esodo è una presenza radicata nella storia nei secoli e che ancora oggi mantiene in loco le sue testimonianze le sue vestigia e qualche possibilità appunto di mantenere viva la cultura la storia e le tradizioni quelle terre in particolare andiamo così a ritroso nel tempo ben prima della seconda guerra mondiale andiamo quindi a vedere quello che era successo durante il percorso risorgimentale in cui l'italia con le guerre di indipendenza pian pianino conquista la sua unità si riunifica c'è alla fine il regno d'italia che nasce nel 1861 e cinque anni dopo terza guerra di indipendenza si si arriva all'annessione del veneto e del friuli rimangono però ancora sotto il dominio dell'impero austro-ungarico delle regioni abitate in prevalenza da italiani si tratta del trentino si tratta di quella che il glottologo goriziano grazie a dio isai ascoli ha definito la venezia giulia cioè le province di gorizia di trieste e l'istria in più c'è anche nelle comunità italiane sparpagliate lungo la dalmazia in cui zara è la roccaforte il caposaldo dell'italianità negli altri località la comunità italiana rappresenta non sempre la maggioranza della popolazione e inoltre c'è anche fiume che non fa parte dopo il 1867 della metà austriaca dell'impero austro-ungarico bensì fa parte della parte ungarese rappresenta lo sbocco al mare della metà ungarese dell'impero così come trieste era lo sbocco al mare principale della parte austriaca in queste zone appunto la comunità italiana ha acquisito una sua specificità e consapevole della sua identità della propria appartenenza nazionale guarda con interesse a quello che è successo nella penisola italiana nel 1861 appunto quando nasce il regno d'italia in istria c'è una dieta provinciale che deve leggere i propri rappresentanti per andare al parlamento di vienna i delegati italiani votano tutti quanti nessuno non vogliono mandare nessuno a vienna perché si sentono in tutto e per tutto italiani e guardano con interesse a quello che appunto è successo in italia col percorso risorgimentale a seguito quindi di questa identità che si fa sempre più forte in un territorio mistilingue multiculturale in cui la costa è sempre stata abitata in prevalenza da italiani l'entrotterno invece la popolazione islave slovenia il nord croati nella parte interna dell'istria a ridosso di fiume e soprattutto in dalmazia dove ci sono anche comunità serbe e albanesi e in questa area mistilingue quindi multiculturale l'italiano era stata la lingua franca grazie alla presidenza plurisecolare della serenissima repubblica di venezia ok quindi dicevamo appunto di questa situazione che si viene all'interno dell'impero austro-ungarico di questa contrapposizione sempre più netta fra gli italiani che chiedono e cercano di separarsi di entrare a far parte del regno d'italia e le comunità slovene croate che insistono sul medesimo territorio che invece ribadiscono il loro lealismo nei confronti dell'impero il quale contraccambia concedendo loro sempre più autorità ampliando il censo per poterli coinvolgere nei processi elettorali in modo da creare una nuova classe dirigente a sé favorevole d'altro canto l'italia il regno d'italia nel 1882 firma la triplice alleanza quindi si lega con la germania e l'austria-ungheria questo è uno sviluppo che gli serve per portare avanti una politica coloniale in africa è un momento di grande contrapposizione diplomatica forte con la francia quindi di fronte a questa situazione il vecchio nemico delle guerre di indipendenza diventa un alleato diventa un si fa con blocco con berlino e con vienna e l'italia rinuncia quindi al suo percorso di al completamento il suo percorso di unificazione nazionale nonostante ciò comunque si è sviluppato l'irredentismo cioè il movimento politico e culturale tanto presente negli italiani dell'adriatico orientale quanto all'interno del regno d'italia fra i rappresentanti della sinistra storica quindi garibaldini mazziniani eh eh reduci appunto delle campagne risorgimentali che intendono portare a compimento questo percorso di unificazione nazionale perché sanno che c'è appunto ancora con una comunità italiana eh fuori dai confini che deve essere integrata questa situazione eh porta quindi arriviamo agli anni della prima guerra mondiale in cui l'italia denuncerà questa alleanza naturale con l'Austria-Ungheria e dopo quasi un anno d'attesa entrerà nel conflitto proprio come dirà il re Vittorio Emanuele II proprio per portare a compimento l'opera dei nostri padri cioè il il completamento dell'unificazione nazionale il conflitto alla fine appunto sappiamo che vedrà il dopo alterne dopo le sanguinose battaglie dell'Isonzo la sconfitta di Caporetto la la resistenza sulla linea del Piave del Monte Grappa eh Vittorio Veneto finalmente appunto il successo del 4 novembre 1918 che porta quindi le truppe italiane a eh prendere il controllo di quelle porzioni eh dell'ex impero austro-ungarico che il patto di Londra del 1915 eh stipulato con Francia, Inghilterra e Russia aveva assicurato appunto agli al regno d'Italia in caso di vittoria. Il problema è che sulle macerie del vecchio impero austro-ungarico eh si sono stanno nascendo nuovi stati di cui nessuno poteva immaginare la nascita eh tre anni prima. In particolare il regno dei serbi, croati e sloveni che raccoglie appunto soprattutto queste popolazioni è una sorta di espansione del vecchio regno di Serbia che è incluso al suo interno anche quelle comunità di croati e sloveni che erano stati sudditi e sburgici e che in particolare rivendicavano per questo nuovo stato la missione di quelle terre in cui erano presenti loro oltre che gli italiani. Nel progetti appunto di questi nazionalisti slavi c'era l'annessione quindi anche di queste regioni miste anche dove loro rappresentavano soltanto una minoranza come lungo la costa e nelle grandi città come Trieste, Gorizia, Fiume e Zara. La situazione sappiamo che porterà poi anche all'impresa di Danunzia Fiume con l'esperienza della reggenza italiana del Carnaro eh la tragica conclusione con le giornate del Natale di Sangue e alla fine però Italia eh regno di Serbi, Croati e Sloveni trovano l'accordo col trattato di Rapallo novembre 1920 che verrà poi diciamo così eh perfezionato col trattato di Roma del 1924 con cui Fiume alla fine entrerà a far parte del regno d'Italia dopo essere stata in maniera efimera per un paio anni uno una città libera, una città stato, lo stato libero di Fiume e eh Fiume entrerà quindi nel ventiquattro a far parte eh del regno d'Italia mentre la sua eh Porto Barros, la sua periferia orientale entrerà nel regno eh di Belgrado. All'interno appunto di questi due stati comunque ci saranno in questi nuovi confini delle minoranze etniche quindi ci sarà una forte comunità slovene croata nella Venezia Giulia annessa al regno d'Italia e c'è una comunità italiana nella Dalmazia che è entrata a far parte del regno eh Slavo anche perché appunto a parte Fiume, Zara e Listria tutto il resto della Dalmazia invece viene annesso a questo nuovo regno e quindi gli italiani di Spalato, Sebenico, Trau, Ragusa si trovano a vivere una condizione di nuovo di minoranza nazionale e in una situazione in cui ancora una volta si trovano anche ad essere perseguitati per questa loro identità. D'altro canto la fine della prima guerra mondiale ha visto il tracollo degli imperi multinazionali ed è nato invece si sono consolidati gli stati nazionali, stati in cui c'è una identità nazionale dominante, c'è una prevalente e le varie minoranze che si possono trovare all'interno di questo stato o vengono assimilate oppure vengono costrette ad allontanarsi. Gli italiani di Dalmazia nel corso degli anni venti abbandoneranno quindi le loro città proprio per questo motivo. Molti di loro andranno a Zara che è il capoluogo della regione che fa parte dell'Italia, altri andranno a Triesta, a Roma, ma di fatto si crea questa prima ondata di esodo dalla Dalmazia. Analogamente le comunità slave che si trovano all'interno del regno d'Italia si trovano a subire le politiche di nazionalizzazione che il fascismo poi porterà avanti in maniera ancora più esasperata nell'ambito di un più ampio processo di nazionalizzazione delle masse che riguarderà quindi tutta la società e in particolare quindi anche da queste zone si registrerà l'allontanamento di sloveni e croati, ma si tratta soprattutto di persone che erano anche giunte nella fase finale dell'impero austro-ungarico, persone che l'autorità austrieca avevano fatta arrivare in queste città proprio per alterare la composizione etnica, sostenere la componente slava, fronteggiare in maniera più consistente la componente italiana e soprattutto inserire queste persone anche negli ambienti lavorativi a scapito degli italiani e dei cosiddetti regnicoli, cioè di cittadini del regno d'Italia che venivano a lavorare a Trieste, che era comunque una città prospera e florida. Quindi questi scombussolamenti, questi sconvolgimenti di confine portano a ulteriori esasperazioni, a ulteriori contrapposizioni fra queste comunità, gli italiani e gli slavi, che fino all'arrivo appunto del concetto di nazione e nazionalismo avevano comunque mantenuto un al loro equilibrio, una loro coabitazione, una loro coesistenza. In questo periodo storico fra le due guerre mondiali invece appunto l'esasperazione del concetto di Stato nazionale porterà queste comunità a fronteggiarsi in maniera sempre più dura, a scapito appunto della popolazione che si trova nel mezzo. Il passaggio successivo, e qui entriamo nel vivo della nostra vicenda, è quello che ci porta alla Seconda Guerra Mondiale, in cui il Regno d'Italia, sappiamo, entrerà un anno dopo rispetto allo scopo del conflitto e in particolare poi nell'aprile del 1941 la guerra interesserà anche la Jugoslavia. Il Regno di Jugoslavia infatti trovatosi circondato dalle potenze dell'asse, l'Italia, la Germania, i loro alleati come l'Ungheria, la Bulgaria e la Romania, si trova in una condizione appunto di difficoltà e sceglie di allearsi con la Germania e aderire al cosiddetto pato tripartito. Il problema è che dopo neanche 24 ore dalla firma di questa adesione a questo trattato, un colpo di Stato a Belgrado rovescia il governo, viene posta una reggenza monarchica, un nuovo governo militare il quale denuncia immediatamente questa alleanza e cerca di riportare Belgrado su posizioni più allineate con l'Unione Sovietica e con la Gran Bretagna. Gran Bretagna che in quel momento era già avversaria tanto della Germania quanto dell'Italia. Hitler ha una reazione furibonda, fa bombardare Belgrado, scatena un'operazione militare che in neanche due settimane spazza via la Jugoslavia della carta geografica. A Tavolino, l'ex regno dei Karageorgevic viene spartito fra l'Italia, la Germania e gli altri paesi minori che hanno contribuito alla vittoria militare così schiacciante, vengono costituiti degli stati fantoccio, degli stati gestiti dall'ultranazionalista Ante Pavelic, capo degli Ustasha croati, una formazione fascista con una forte componente cattolica che li porta quindi a compiere stragi di servo-ortodossi, ebrei e zingari. C'è una giunta militare che governa a Belgrado, l'Italia amplia i suoi confini anche in Dalmazia, si annette la Slovenia meridionale in maniera diciamo così abbastanza anche in un luogo, una provincia in cui appunto non c'era assolutamente presenza italiana, viene annessa come provincia autonoma al Regno d'Italia. Quindi si può ben capire come in questa Jugoslavia sconfitta e spartita a tavolini in questa maniera, si viene a creare un movimento di resistenza, che trova i suoi leader dapprima tra i militari sbandati dell'esercito, ancora fedeli al re in esilio, e però pian pianino vede emergere la figura di Josip Broz Tito, del partito comunista jugoslavo, un partito che prima della guerra aveva pochissimo seguito, viveva quasi in clandestinità, la società jugoslava comunque era fortemente conservatrice, tradizionalista, religiosa, che fossero cattolici, sloveni e croati, ortodossi, serbi o montenegrini, o ancora islamici della Bosnia. Ma comunque per il partito comunista c'era poco ambito di manovra. Tito è stato a lungo a Mosca, capitale del comunismo sovietico, ha combattuto nelle brigate internazionali durante la guerra di Spagna, rendendosi particolarmente caro agli occhi di Stalin, compiendo varie eliminazioni di suoi antagonisti, oppositori, in quello scontro interno che ci fu tra comunisti, anarchici, varie aspirazioni trotschisti e stalinisti, che portò anche questa alla sconfitta delle brigate internazionali di Spagna. Quindi Tito si è conquistato più fama all'estero che in patria, quindi parte da poco, ma in pratica poi pian pianino comincia a crescere il suo nucleo forte. Come succede? Succede perché di fatto Tito sceglie di adoperare la strategia della lotta partigiana più radicale. Quindi attentati, imboscate nei confronti delle truppe di occupazione, le truppe italiane, si va anche ad agire nel dentro terra di Trieste, di Gorizia, in Dalmazia, zone che appartengono a tutti gli effetti al Regno d'Italia, non solo nelle zone occupate. Quindi la reazione delle autorità, delle truppe, è dettata dalle leggi di guerra che impongono la rappresaglia, il rastrellamento, la cattura e la deportazione di prigionieri e di ostaggi. Questo esaspera ulteriormente gli animi, crea una frattura fra le truppe italiane, le forze dell'ordine italiane e le comunità slave che sono al centro di queste rappresaglie e questo contribuisce quindi a esasperare ulteriormente gli animi. Le fila truppe partigiane di comuniste si ampliano sempre di più, anche perché invece i nazionalisti assumono una posizione anticomunista, cominciano addirittura a collaborare in alcuni contesti con gli italiani in funzione anticomunista contro i partigiani di Tito, in quanto essi auspicano che a guerra finita possa tornare sul trono il cara Georgievich deposto dai tedeschi e si possa ritornare alla vecchia Jugoslavia monarchica nazionalista. Invece Tito ha tutt'altro progetto, sarà una nuova Jugoslavia socialista, federata, in cui non saranno i serbi la componente egemone, ma ci sarà un rapporto paraitario fra tutte le comunità presenti sul territorio. E in più, cosa importantissima per accappararsi in favore dei nazionalisti sloveni e croati, Tito promette che la nuova Jugoslavia amplierà i propri confini, andando ad annettere quelle zone di frontiera in cui le comunità slovene e croate rappresentano non solo la maggioranza della popolazione, ma anche quelle dove sono minoranza. Quindi si punta a Trieste, a Gorizia, tutta l'Istria, Fiume, Zara e ci sono interessi anche nei confronti dell'Austria meridionale, dove ci sono comunità slovene in Carinzia e Stiria. Tutto questo sembra utopia, ma in realtà la situazione subisce un rovesciamento clamoroso l'8 settembre del 1943. In quel momento c'è collasso politico, militare e istituzionale dell'esercito italiano. Le truppe italiane si dissolvono, spariscono nel nulla e al loro posto si crea un vuoto di potere. Quindi, privi di ordine, i soldati sono facile preda delle truppe tedesche che li fanno prigionieri, tanto in Italia quanto nelle zone occupate. C'è l'esercito angloamericano, ha già occupato la Sicilia, è sbarcato in Calabria e in Puglia, sta risalendo da Meridione. I tedeschi hanno preso il controllo dell'Italia centro-settentrionale, liberano Mussolini dal Gran Sasso, ma mentre tutto questo avviene, l'Eistria e la Dalmazia, il vuoto di potere che si crea per l'assenza dello Stato italiano, viene colmato dalle truppe partigiane di Tito. I tedeschi hanno preso il controllo soltanto di Trieste, di Fiume e della costa per evitare uno sbarco degli alleati e l'entroterra rimane in balia delle truppe partigiane per circa un mese e qui avremo la prima ondata di uccisioni nelle foibe. Si calcola che in questa prima ondata saranno circa un migliaio le vittime, un migliaio di persone annientate in un anche un mese di tempo in una provincia, in un territorio anche particolarmente ristretto. Si tratta non solo di ex fascisti, ricordiamoci che il fascismo è già accaduto il 25 luglio, c'è stato il colpo di Stato che ha portato al potere il Marchese Badoglio, Mussolini è stato arrestato, il partito fascista è stato sciolto, tutte le organizzazioni e gli apparati dello Stato fascista non esistono più. Quindi si va a cercare non solo gli ultimi ex fascisti rimasti sul territorio, ma si va a colpire tutto ciò che rappresenta lo Stato italiano, tutto ciò che rappresenta uno Stato che deve essere cancellato, deve andarsene affinché queste terre entrino a far parte della rinascente Jugoslavia di Tito. Quindi ecco che si dà la caccia al maestro, al postino, al funzionario comunale, a persone che per il loro ruolo sociale e istituzionale rappresentano lo Stato italiano che deve essere cancellato. E in questo periodo avviene anche il tragico episodio di Norma Cossetto, una ragazza che è diventata col suo sacrificio il simbolo del martirio del popolo istriano e dell'italianità adriatica in generale. Una ragazza la cui colpa era quella di essere la figlia di un piccolo gerarca fascista appunto, a cui carico fra l'altro non è mai stato contestato nulla. La ragazza stava completando i suoi studi a Padova, aveva la sua famiglia, certo erano iscritti al partito, ma come tutti quanti in Italia alla fine in quel momento. Il problema è che nel resto d'Italia dopo l'8 settembre fu facile per tanti togliersi l'orbace e stracciare la tessera del partito. In quel momento i ministri invece li aver fatto essere stati inquadrati in quel modo era la garanzia appunto di venire sequestrati, venire deportati, subire processi sommari, nel caso di Norma Cossetto anche violenze inenarrabili, e alla fine di queste misure di giustizia sommarie venire scaraventati sul fondo di una foiba molto spesso ancora vivi. Quindi dicevamo appunto siamo arrivati al momento della prima ondata di uccisione nelle foibe. Quindi appunto queste stragi che si consumano in queste cavità di origine naturale che sono tipiche dell'entroterra istriano, questo fenomeno geologico del carsismo, queste cavità naturali in cui tradizionalmente le popolazioni locali le avevano usate come una sorta di discarica, un luogo dove buttare gli scarti dei lavori dei campi, dell'allevamento, carcasse di animali. In quel momento in cui l'insurrezione coordinata dal partito comunista jugoslavo, quelle fosse, quelle foibe diventano il luogo in cui far sparire l'oppositore politico, il nemico che deve essere eliminato e quindi ecco il tragico utilizzo di queste cavità. A inizio ottobre le truppe tedesche prenderanno il controllo della situazione con una repressione particolarmente violenta del movimento partigiano e successivamente appunto ci saranno le prime operazioni di recupero dei cadaveri dal fondo di queste foibe. Queste tragedie appunto segnano, fanno capire alle comunità italiane che la notizia comunque poi circola sulla stampa, anche se in maniera limitata all'Italia settentrionale, arriva per via dei servizi segreti, viene informato anche il Regno del Sud, si comincia a sapere quello che è successo. Quindi si cercherà a guerra finita di creare una situazione tale per cui non si vengano a ripetere queste stragi, si cerchi di recuperare i vecchi confini. Il problema è che purtroppo nel proseguo della guerra le formazioni partigiane di Tito libereranno praticamente da sole la Jugoslavia e arriveranno a ridosso di Trieste e Gorizia nella primavera del 45, mentre le truppe angloamericane nell'inverno del 44-45 vengono fermate sull'Appennino e la loro avanzata verso la pianura padana sarà particolarmente lenta. E la corsa per Trieste, questo avvicinamento di queste due, delle due formazioni militari, angloamericane da una parte, Jugoslavi dall'altra, vedrà la sua fase culminante nella primavera del 45 e vedrà alla fine arrivare a Trieste per primi i partigiani di Tito. Arriveranno dopo che la città è stata per due anni sotto occupazione nazista con la cosiddetta zona di operazione litorale adriatico, un governatorato militare che occupava praticamente tutto l'attuale Frulli Venezia Giulia, l'Istria, Fiume e la Slovenia meridionale, in cui le truppe tedesche avevano il diretto controllo della situazione e avevano attuato una repressione antipartigiana particolarmente spietata, andando ulteriormente a esasperare gli animi sul campo e a farne le spese ancora una volta furono i civili italiani, i quali si trovarono a guerra finita dopo il 25 aprile e la giornata dell'insurrezione generale nell'Alta Italia, appena il 30 aprile il Comitato di Liberazione Nazionale riesce a organizzare l'insurrezione cittadina che effettivamente costringe i tedeschi a arroccarsi in pochi punti della città in attesa di arrendersi ad un esercito regolare e l'indomani, primo maggio 45 però, arrivano a Trieste gli uomini di Tito, i quali quindi prendono il controllo della situazione, esautorano i partigiani italiani per far capire l'aria che tira, fanno addirittura spostare l'ora sul fuso orario di Belgrado per far capire che le terre devono essere annesse alla nuova Jugoslavia e comincia la seconda ondata di stragi nelle folbe. Anche stavolta sulle cifre ci sono diverse interpretazioni, c'è chi dice che ci sono stati solo, tra virgolette, 5.000 morti, parliamo sempre di un'area ristretta, qua stavolta ci sono interessati anche grossi centri come Trieste, Gorizia e Fiume, ma si parla sempre di un eccidio avvenuto nell'arco di 40 giorni. Qualcuno si spinge a circa 12.000, calcolando anche tutti i militari catturati a guerra finita, ovviamente i militari della Repubblica Sociale Italiana, catturati a guerra finita, deportati, trattati senza alcun rispetto delle norme di guerra in merito al trattamento dei prigionieri e in particolare appunto la creazione in questi campi di concentramento in Slovenia in cui verranno deportati a marce forzate non solo ex fascisti o militifascisti, ma questa volta ancora si vanno a colpire i simboli dello Stato italiano e addirittura si vanno a colpire anche ex partigiani, combattenti che hanno lottato contro il fascismo, contro il nazismo, ma che in questo momento ribadiscono l'italianità di queste terre e quindi sono contrari al progetto espansionista di Tito, ben occultato dietro la bandiera rossa del suo esercito popolare di liberazione della Jugoslavia. In particolare quindi questa nuova ondata di stragi vuole andare a privare la comunità italiana dei suoi punti di riferimento, in modo che debba accettare passivamente il nuovo Stato, il nuovo regime che Tito cerca di imporre. Solamente il 10 giugno del 45 gli angloamericani riusciranno a arrivare a un accordo con Tito a Belgrado, costringendola ad abbandonare almeno Trieste, Gorizia e Polea, che passeranno sotto amministrazione militare angloamericana, mentre in retroterra di Trieste, Gorizia e tutta l'Istria e il fiume saranno zona sotto amministrazione militare jugoslava. La città di Zara viene ormai considerata annessa alla Jugoslavia, dopo che Tito durante il conflitto le aveva fatta già pesantemente bombardare dagli angloamericani, avendoli informati surrettiziamente che si trattava di una base militare. In realtà era una città priva di valore strategico, bensì era il simbolo dell'italianità in Dalmazia e Tito aveva fatto ai nazionalisti croati che avevano aderito alla sua lotta questo regalo, distruggere con le bombe degli angloamericani i monumenti, i palazzi, le chiese che testimoniavano il radicamento, la presenza della cultura, della storia e della tradizione italiana nel capoluogo della Dalmazia. Tant'è vero che appunto un poeta nazionalista croato, Vladimir Nasol, dichiarò che Zara era morta e sarebbe rinata Zadar, che era il nome con cui i croati appunto chiamavano quella città. Alla fine appunto di questi 40 giorni di stragi, in queste due zone in cui viene diviso il territorio conteso in attesa della conferenza di pace, si continueranno però ancora a consumare episodi di violenza, sparizioni, soprattutto nella zona B. Don Bonifacio, un sacerdote dell'entroterra estriano, sparisce e viene infoibato ed è stato recentemente beatificato, essendo stato riconosciuto martiri in Odium Fidei. Sulla spiaggia di Vergarolla, vicino a Pola, il 18 agosto 1946, un attentato dinamitardo provoca una strage tra le famiglie riunite per assistere ad una manifestazione sportiva. Il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Istria si ricostituisce per lottare contro questa nuova occupazione straniera e viene liquidato e eliminato dall'OSNA, la polizia segreta organizzata da Tito durante la lotta di resistenza. Quindi l'italianità locale continua a seguire colpi su colpi. Di fronte a queste crisi, di fronte a queste attentate, a questa violenza, a questo clima di terrore, di paura, c'è già chi cerca di fuggire, chi cerca di andarsene. Il 10 febbraio del 47 a Parigi viene sancito un nuovo confine che effettivamente assegnerà queste terre di confine alla nuova Jugoslavia. Trieste rimane in sospeso, viene istituito il cosiddetto territorio libero di Trieste e sarà una situazione che si trascinerà avanti negli anni. Mentre per quanto riguarda l'Istria, Pola e Fiume e Zara appunto viene ratificata l'annessione alla Jugoslavia e comincia quindi qui il grande esodo. Qui abbiamo anche le poche immagini che vediamo dei cinegiornali riprendono sempre solo Pola, l'esodo da Pola. Non solo perché Pola è stata una città simbolo, una città di circa 32.000 abitanti da cui quasi 30.000 se ne vanno, abbandonano tutto. Una città che si spopola, una città deserta. Fiume stessa si è vista svuotata della sua comunità italiana, della sua anima più profonda. Tant'è vero che è stato anche usato il termine di urbicidio, una città quindi uccisa nella sua essenza, nella sua anima a proposito di quest'esodo. Ma di Pola abbiamo le immagini perché Pola era stata sotto amministrazione militare angloamericana. Quindi i giornalisti potevano accedere, potevano mostrare le terribili condizioni degli esoli che se ne andavano, che abbandonavano Pola. In particolare quindi nel resto dell'Istria invece non c'è il regime jugoslavo, non lascia ovviamente documentare le condizioni degli italiani. Non si può vedere il terrore e la paura che dilagava nelle campagne estriane. E da lì comincia appunto la tragica pagina dell'esodo, su cui penso appunto che Anna Maria Crasti potrà fornirci sicuramente una testimonianza vivida e chiara di questa esperienza. Io vado a concludere con il dopo, dopo le foibe, dopo l'esodo, dopo il trattato di pace. C'è il trattato, il memorandum di Londra che nel 54 consente all'Italia di tornare a gestire l'amministrazione di Trieste. C'è il trattato di Osimo del 75 che riconosce definitivamente la sovranità jugoslava sull'Istria. Sono tanti piccoli passaggi in cui pian piano queste terre spariscono dall'attenzione dell'opinione pubblica italiana. Il ritorno dell'Italia a Trieste il 26 ottobre 54 è stato un grande momento patriottico. Sergio Romano l'ha definito l'ultima pagina del risorcimento italiano. Ciampi ha dato la medaglia d'oro alla memoria dei sei italiani morti durante gli scontri del novembre 53 con la polizia militare anglo-americana manifestanti scesi in piazza per l'italianità di Trieste un anno prima della fine della presenza militare straniera. E quindi appunto episodi che segnano ancora l'attenzione dell'Italia per queste terre. Dopodiché l'oblio, il silenzio. Non si vuole parlare di queste terre perse, di terre la cui cessione certifica una sconfitta, una sconfitta militare che stride con la ritorica crescente attorno al 25 aprile visto come giornata di vittoria nella guerra. C'è il problema dei beni abbandonati degli esuli che non vengono mai risarciti. Sono pagine appunto poi la connivenza del partito comunista italiano col partito comunista jugoslavo nel compiere le stragi. Sono tante pagine che fa comodo tenere nascoste. Si ricomincia a parlare finalmente del 91, il crollo del muro di Berlino, della prima repubblica. C'è un'area nuova, si aprono gli archivi. L'amfoiba di Basovizza diventa un monumento nazionale che viene visitato da Cossiga prima e da Scalfaro poi e alla fine del 2004 la legge del giorno del ricordo appunto istitutiva di questa ricorrenza del 10 febbraio. E quindi appunto diventa adesso per noi doveroso anche in momenti come questi andare a ricostruire questa storia. Una storia che per quasi mezzo secolo è stata cancellata, tenuta all'oscuro di tante generazioni e generazioni italiane. Una storia quindi che riguarda non solo gli striani, fiumani e dalmati che l'hanno vissuta sull'Europelle, ma una storia di tutta Italia, una storia di italiani, una storia anche di quelli italiani che erano lì per motivi di servizio, come militari, come funzionari che hanno trovato la morte nelle foibe, come i finanzieri di Trieste, in cui una lapide ricorda i nomi appunto alla foibe di Basovizza dove sono stati gettati ai primi di maggio del 45 perché rappresentavano quello stato italiano che Tito voleva far sparire da queste terre. Terre in cui ancora oggi comunque c'è una presenza minoritaria italiana, una piccola comunità che resiste, ma soprattutto ci sono monumenti, chiese, palazzi e costruzioni che ci dicono che in queste terre dell'Adriatico Orientale anche le pietre parlano italiano. Vi ringrazio. Allora, io sono Anna Maria Crasti, esule dorsera d'Istria e dove ha finito il dottor Salimbeni ricomincio io. Il 25 aprile 1945 in Italia scoppia la pace. In Istria scoppia la fase più sanguinosa e più cruenta, più numerosa di uccisioni. Il primo maggio del 1945 un membro della mia famiglia, Luigi Crasti, viene ucciso. Che cosa succede? Lui se ne va a lavorare ogni mattina, è un colonno, il colonno dei De Vergottini, l'attuale presidente della Federesuli, e se ne va come fattore a controllare il lavoro dei contadini. Si sa il pericolo che può correre, che corre, che corre realmente, ma lui si ritiene è una persona onesta e ogni volta che lo si implora di non andarsene, lui dice io non ho fatto del male assolutamente a nessuno, sono una persona onesta, tutti mi vogliono bene. Il primo maggio del 1945 va come sempre in campagna e questa volta trova i suoi contadini che lo aspettano armati. Cerca di fuggire e purtroppo scappa, cerca di scappare e lo prendono fucilate alle spalle. Alla sera il carro con il trainato dei buoi che lo aveva portato al lavoro ritorna a vuoto senza di lui. Il suo corpo verrà ritrovato dopo quindici giorni nascosto in un bosco tra cespugli, sterpaglie e sterpaglie. Necatus a partigianis, dice il suo certificato di morte redatto da Don Francesco da Piran. Andiamo avanti, la guerra è già finita il primo di maggio e per la mia famiglia altra tappa fondamentale e invece il 21 di novembre 1946. Io lo ribadisco sempre quanti mesi sono passati da quel 25 aprile 1945 quando ufficialmente l'Italia, in Italia c'è la pace definita la guerra. E notte, sfondano la porta di casa. Rubano tutto quello che è possibile rubare. Ci sono urla, grida, spavento, terribile e i partigiani corrono, i partigiani titini, corrono nel cortile dove c'è un camion. La mia famiglia, oltre ad altre cose, aveva anche una ditta di autotrasporti. Nel cortile c'è un magirus e ai partigiani di Tito quel camion fa fa gola, può servire. Solo che prevedendo che potessero arrivare, prevedendo che potessero portarsi via anche il camion, il fratello di mio papà aveva smontato in precedenza il motore di quel camion. Quindi vanno verso il cortile, mio papà li accompagna e dice compagni no, il camion è rotto, non può partire. Infatti il camion non può partire. Non possono portare via il camion ma portano via lo zio e mio papà. Li portano al carcere di Parenzo. Lo zio viene rilasciato la mattina dopo, mio papà invece fa 40 giorni di prigione. Sono 40 giorni di torture fisiche, gravi torture e sono 40 giorni di torture psicologiche perché ogni notte gli dicono domani mattina ti buttiamo in foiba. E mio papà ha capito, sa cos'è l'orrore della foiba perché già per tre volte era stato sull'orlo della foiba salvato dall'intervento dei tedeschi che non vanno alla ricerca di gente da salvare dalle foibe ma vanno alla ricerca di partigiani titigne, li vanno a rastrellare ed incappano per tre volte in questo gruppo di persone che dovrebbero essere uccise e che invece vengono salvate. Quindi il mio papà sa che cos'è la foiba ed è terrorizzato però avviene un miracolo. Un nostro contadino affezionato alla famiglia testimonia in suo favore. È partigiano però è affezionato alla famiglia e quindi testimonia in suo favore dice Giovanni Crasti non è un nemico del popolo. Ti portavano via, ti accusavano, ti infoibavano perché eri nemico del popolo. Quindi il papà non è nemico del popolo e viene rilasciato. Alla sera stessa bussano alla porta e lo stesso contadino che ha testimoniato in suo favore che si illumina la faccia e dice a mio papà di scappare, di scappare il più presto possibile perché molto velocemente i partigiani di Tito torneranno e questa volta gli dice al papà stavolta ti ammazzano immediatamente, non ti salvi più. Lo zio rimette il motore a quel camion e partono la volta di Trieste. Arrivati al confine è prima del 10 febbraio 1947. Io ho dei documenti vecchissimi rilasciati dal comune di Trieste che dicono che Giovanni Crasti e suo fratello Giuseppe sono a Trieste il 2 di febbraio 1947. Arrivano al confine tra quella che è l'Istria ancora italiana e Trieste, il territorio di Trieste che è il governo militare alleato. Al confine vengono fermati da un druse da un soldato jugoslavo che chiede loro i documenti. Quando si fugge, come ben si sa anche oggi, non si portano i documenti con sé perché la famiglia che resta a casa può essere perseguitata. Il mio papà si rivolge al druse e gli dice compagno il camion è rotto, dobbiamo correre a Trieste a farlo riparare. Mancano anche dei pezzi di ricambio, in realtà in Istria quella volta non c'era più niente di che potesse servire a riparare un camion o un automobile, ormai non c'era la miseria assoluta. Per cui, perché tu sia sicuro che noi questa sera ritorniamo, ti lasciamo questi soldi e sono 200 mila jugolire. Le jugolire sono una moneta che mettono in corso gli slavi come arrivano in quelle terre, che valgono molto di meno delle lire italiane, ma 200 mila jugolire per una persona povera, come un soldato jugoslavo di allora, è una cifra abbastanza importante. Fortuna di mio papà qual è? È un soldato che si lascia corrompere. È corruttibile, per cui quando vede questi soldi si rivolge il mio papà e dice sì sì compagno, questa sera quando tornate ve li restituisco. Lui sa benissimo che loro non torneranno quella sera, il mio papà e mio zio non torneranno mai più alla loro casa e sono in salvo. 10 febbraio, noi dal 10 febbraio non siamo più italiani. Chi resta in Istria automaticamente da italiano diventa jugoslavo. Siamo i primi di marzo, notte buia fonda. Chi scappa, in un certo modo come scappo io, deve scappare in una notte di luna buia, assolutamente col buio assoluto. La mamma mi prende per mano, io non ho ancora sei anni, e mi dice vieni che andiamo da nonna. Vieni che andiamo dalla nonna, la mamma di mia mamma, che abita due porte più in là. Non andiamo dalla nonna. Noi siamo vestite come si sta in casa. Non abbiamo una sciarpa, non abbiamo un cappotto, non abbiamo una maglia, non abbiamo niente. Non abbiamo una borsa, non abbiamo il portafoglio, assolutamente niente. Non andiamo dalla nonna, andiamo invece dritte verso la marina. E qua ci aspetta una barca, una barca remi. I remi di quella barca sono avvolti da stracci. La notte è nera, saliamo su quella barca. Non si deve fare rumore, il silenzio deve essere quasi totale, perché per il mare girano le motovedette jugoslave che mitragliano le persone che scappano in barca. e molte, molte persone moriranno mitragliate dalle motovedette jugoslave. Di quella notte io ricordo il buio del cielo assoluto, il mare nero, il mare tempestoso, che mia mamma mi ha sempre detto che era invece tranquillissimo, ma doveva essere talmente spaventata che quel mare a me sembrava spaventoso. E soprattutto ricordo la mano di mia mamma, che quasi mi soffoca e mi bisbiglia l'orecchio, stai zitta, stai zitta. Io non posso piangere, non posso parlare, non posso dire niente, perché se ci sentono ci mitragliano. Arrivati a largo c'è una barca a motore che ci aspetta. La mattina dopo siamo a Trieste. La famiglia Crasti si ricongiunge, però dopo qualche mese, e la stessa esperienza che capita a me, capita ad altri bambini, perché l'ho sentito da altre persone, sembra, corre voce, ed è una voce falsa, non esiste assolutamente, ma corre voce che l'Istria tornerà italiana. E i miei genitori ci credono. E a quel punto la piccia, la piccola, io, che è scappata con la mamma, viene rimandata a Orsera, al mio paese, dalle nonne. La piccia ha bisogno di fare qualche mese, un mese, un mese e mezzo di mare, di bagni, e va dalle nonne. Quel mese, mese e mezzo, diventa un anno, perché gli slavi, gli yugoslavi, non mi permettono di tornare più a Trieste dei miei genitori. Io lo dico sempre, è un anno felice per me, perché non mi rendo assolutamente conto del pericolo che sto correndo, non mi rendo assolutamente conto del dolore e della paura che le nonne stanno provando e non capisco assolutamente quello che possono provare i miei genitori a Trieste, sapendo che la loro figlia non può tornare, non può più tornare da loro. Nonostante i tentativi, i documenti, le pratiche, non mi lasciano tornare indietro. Ma io sono avvolta da tanto amore dalle nonne, da un affetto profondo, da un amore che io ricambio, cerco di ricambiare parlando di loro questa sera e anche tutto il paese mi protegge, perché non vogliono che io soffra e non soffro. Inoltre i titini mi fanno fare un lavoro sporco. Sono piccola, ho sei anni e mezzo oramai, a Ossera ci sono tanti bambini, bambine, ragazzini, ragazzi, ragazze. Ma solo io per molte, molte volte faccio un lavoro. Mi mettono in testa ai loro cortei, i cortei che loro formano per andare a onorare gli uccisi dai tedeschi, dai fascisti, dai nazifascisti, i partigiani uccisi ai quali hanno fatto un eretto monumento e Anna Maria Crasti di sei anni e mezzo con un'immensa corona di alloro in mano va a deporre sui loro monumenti questa corona. E questo mi rende orgogliosa perché sono l'unica bambina del paese a fare quel lavoro là. All'improvviso, un anno dopo, come non mi hanno permesso di ritornare a Trieste, così improvvisamente sbloccano tutto e mi permettono di tornare a Trieste. Sarò accompagnata dalla famiglia grego che abita attaccata a noi e che si prende l'enorme responsabilità di portare la bambina ai genitori, dai suoi genitori a Trieste. E siamo di nuovo tutti insieme. Rimangono orsera le mie due nonne. Optano e le loro opzioni vengono accettate. Molte opzioni vengono respinte. Molte e molte rimasti rimarranno proprio là, proprio perché le loro opzioni saranno respinte con delle scuse perché il loro cognome finisce in CH e quindi è slavo e croato perché sanno tre parole di croato e allora sono croate e quindi per motivi futili impediscono loro di venire in Italia optando. Le nonne optano e arrivano a Trieste e le nonne non vogliono più vivere perché per loro l'abbandono, l'abbandono del paese, l'abbandono dei parenti, l'abbandono degli amici, l'abbandono del cimitero. Io ancora nella tomba orsera e pago l'affitto per quella tomba. Io ho ancora dieci morti in quella tomba. Anche Luigi Crasti che è stato ucciso dai partigiani. Per loro l'abbandono di quella casa dove hanno vissuto mia nonna, la mamma di mio papà e la parona a casa nostra orsera, quella che dirige tutta la famiglia, quella che ha sempre comandato anche severamente a diretto la famiglia. L'altra non ha fatto la stessa cosa ma l'abbandono del tutto per loro è fatale. Arrivano a Trieste e per loro non è sufficiente la vicinanza dei figli. A loro non basta. Al primo malanno non resistono e si lasciano morire. Muoiono di crepacuore, muoiono di dolore. Come le mie nonne, la fattora non Anna, la mamma di mio papà ha 60 anni, 60 anni e giovane. L'altra ne ha 75 ma si lasciano morire di dolore e come loro sono morti migliaia di anziani che si sono lasciati morire. Anche quelli infoibati dal silenzio perché nessuno, tranne i loro parenti, sanno che sono morte per il dolore. Noi, la nostra famiglia, non vive nei campi profughi. Quando i 350 mila circa italiani che in varie tappe arrivano in patria, noi arriviamo in patria, non arriviamo all'estero, noi torniamo, veniamo in in patria. Arrivano, lo Stato italiano, il governo italiano è impreparato. Tanto perché per qualche motivo, per qualche tempo cercano di ostacolare l'arrivo degli esuli dall'Istria e da fiume. ma noi abbiamo paura, noi dobbiamo assolutamente venire via. Sono periodi gravissimi, gli italiani vengono perseguitati. Quindi si opta, si opta e si viene via. E arriviamo qua in Italia, in patria, in 350 mila circa. Dove mettono questi disgraziati, derelitti che non hanno più? Assolutamente niente. tanti arrivano solo con una valigia e niente altro. Si possono portare a una cifra ridicola se hanno dei soldi in banca. Quindi arrivano e li mettono nei campi di raccolta profughi. CRP, campi raccolta profughi. 109, 111 sparsi per tutta l'Italia. Sicilia, Sardegna, Lazio, Lombardia. Sono per esempio in Lombardia, sono nelle scuderie della regia del Palazzo Reale di Monza. Ma tanti, tanti si fermano a Trieste. E vivono la vergogna, l'umiliazione, la mancanza di decoro, la mancanza di dignità dei campi di raccolta profughi. I campi di raccolta profughi sono in genere o delle caserme dismesse, delle scuole mezze abbandonate, in posti diroccati, sempre, sempre circondati dal filo spinato. Come la gente entra nel campo profughi, all'inizio a loro vengono prese l'impronte digitale. Vergogna estrema, trattati come i delinquenti. Interverrà il vescovo di Parenzo, anche lui esole, Monsignor Radossi, che si rivolgerà al ministro dell'interno, Scelba, dicendogli ma che cosa state facendo? Non basta il dolore, non basta la sofferenza, non bastano i morti, non basta l'abbandono del tutto, li trattate come dei delinquenti. Non prenderanno più le impronte digitali, ma vivranno in quelle sale, in quegli stanzioni immensi, divise da coperte, 4 metri per 4 sono gli appartamenti degli esuli che vivono in quelle condizioni, vivranno qualcuno anche per 15 anni. Nella sporcizia, divisi da coperte, si sentono gli odori, i rumori, i bisbigli, non c'è un momento di intimità, c'è un bagno per ogni 20-30 persone, non ci sono le docce, d'inverno ci si lavano sotto i rubinetti con l'acqua fredda, è un'umiliazione pazzesca, tremenda. Pian pianino, pian pianino, le cose si sistemeranno anche per noi, cominceranno a costruire i villaggi, il villaggio Giuliano d'Almat a Roma, il villaggio Giuliano d'Almat a Torino e a Trieste, certamente. A Trieste io vivo un'esperienza, la famiglia è felice, noi viviamo agiatamente grazie al lavoro di mio papà, però sanno che sono esule istriana e io fino ai 15-16 anni, sono una studentessa del liceo, sanno che sono esule, mi incontrano per strada e mi dicono sporca esule, torna a casa. A Trieste, la nostra patria d'elezione, la città che ci rappresenta, ma anche a Trieste non ci vogliono. Ritengono che noi portiamo via il pane, il lavoro e le case anche quando non ce le danno. Siamo un peso, siamo un peso, ma noi a casa, sporca di esule torna a casa, la sporca di esule torna a casa e tutti gli altri non possono tornare a casa. Non abbiamo più una casa, noi non possiamo tornare, abbiamo solo quelle che sono le case dove abitiamo, ma quelle vere sono le case dove siamo nati, sono le case che abbiamo abbandonato e che nel nostro cuore per noi sono le nostre case.